BATTERE! BATTERE A FALQUO! E SALO BATTERE! BATTERE A FALQUO! BATTERE! DELL'AGNELLO! GOLA! NO! E' DELL'AGNELLO! Quello lì, con le scalpe rosse! NO! E' BELL'AGNELLO! E' DELL'AGNELLO! DELL'AGNELLO! YAY! I'M BALOW HET PAN! Perché no, perché no, perché no, mille euro di bordo, perché no, perché no? Perché no, perché no, perché no, perché no! Perché no, 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 perché Capitano, via del giupoporto, piazza Mancini 6,7, al di forno. Ed eccovi le formazioni. Frescia. Capitano, via del giupoporto, piazza Mancina, per il giupoporto, piazza Mancina, per il giupoporto, piazza Mancina. Piazza Mancina, per il giupoporto, piazza Mancina, per la parte. Eccola. E adesso, poco la paracola, facciamo la paracola, facciamo la paracola. Ricciamoli forte a fondo ai ragazzi, tutti indate verso la gloria, di mondo. dai pali con il numero 1 il quarto maranto Luca Mazzoni in difesa con il numero 4 la torre Alessandro Bernardini con il numero 27 la liga brasiliana Ramon Borges Emerson con il numero 17 il nuovo che avanza Federico Ceccherini a centro campo con il numero 28 Pasquale Schiattarella con il numero 10 il capitano Andrea Luci con il numero 23 Giannis Brett Giodef Alfred Sarka con il numero 11 lo scantuffo Alessandro Landrughi con il numero 7 il tattico Luca Nelingheri in attacco con il numero 8 il rapace dell'area di rigore Federico Dionisi e con il numero 9 Paolo Sergio Betonis in partina l'allenatore Dan Puntola porta alle cani Geri, De Carti, Salviato, Di Gatti, Genzoglu e L'Agnello eh sì dirigerà la gara il signor Di Bello di Brindisi a presto, Stellone, Citro, quarto uomo vicinanza addizionali di porta Giancola e Gabillucci a tutti buon divertimento Giancola